salve a tutti sono marco gardellini agenzia tecno casa san pietro in casale il mio numero di telefono è 8107 41 telefonatemi perché questa è una casa molto molto interessante ha un giardino interno e la casa lo abbraccia tutto zona giorno zona notte compresa e più abbiamo una grandissima taverna io sono marco gardellini iniziamo la visita a dopo iscriviti al nostro canale iscriviti al nostro canale iscriviti al nostro canale iscriviti al nostro canale naturalmente il giardino privato non è finito perché continua anche all'esterno ma in questo modo la casa l'abbiamo vista tutta io sono marco gardellini agenzia tecno casa san pietro in casale 051 81 81 07 41 è il mio numero di telefono aspetto una telefonata a presto iscriviti al nostro canale